Dal 3 settembre torna sul Reteotto in diretta alle ore 21 la Domenica Sportiva. Parleremo della Serie C con il Pescara e con la neopromossa Pineto. Parleremo diffusamente di Serie D, il Chieti, l'Aquila, Avezzano e Notaresco e poi ampio spazio a tutte le discipline sportive, il basque, il volley, il ciclismo e tutte le realtà della nostra regione. Vi aspetto la domenica alle ore 21 su Reteotto la Domenica Sportiva.